Buonasera Simone e buonasera a tutti voi. Quest'oggi parliamo di un recente parere del garante della privacy in relazione all'accesso civico generalizzato nelle procedure selettive. Infatti il garante della privacy, a seguito di richiesta di parere da parte di un responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza di un comune, ai sensi dell'articolo 5 e 7 del decreto trasparenza, ne ha confermato l'operato ritenendo legittimo il rigetto di due stanze di accesso civico, aventi ad oggetto i curricula e l'elenco delle domande presentate per procedure di selezione per alcune cariche istituzionali. Infatti il garante ha ritenuto che fosse prevalente la tutela dei dati personali dei controinteressati, di cui all'articolo 5 bis, 2 lettera A del decreto trasparenza. Si richiama l'obbligo di pubblicazione concernenti dati e informazioni su soggetti titolari di incarichi di vertice e si richiama il principio sancito dell'articolo 5 secondo comma del decreto trasparenza, secondo cui chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti delle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, però nel rispetto di alcuni limiti. Si sancisce la legittimità del rifiuto laddove si arrechi pregiudizio alla protezione dei dati personali e tale pregiudizio deve essere concreto. Infatti la conoscenza della partecipazione ad una selezione pubblica e quindi la connessa volontà di voler cambiare lavoro può determinare delle gravi conseguenze se è più il piano relazionale che è professionale dei controinteressati che non hanno superato la selezione, così come l'ostenzione dei curricula consente l'accesso a numerosi dati personali determinando un'interferenza ingiustificata e sproporzionata dei diritti e delle libertà dei soggetti controinteressati, determinando un pregiudizio concreto di cui è fatto divieto all'articolo 5 bis secondo comma lettera A del decreto trasparenza. Il trattamento infatti deve avvenire nel rispetto dei principi di limitazione delle finalità, i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e di minimizzazione dei dati. I dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati alle finalità di trattamento. Dunque è conforme la normativa vigente il rigetto dell'amministrazione di accesso civico sulle istanze dell'elenco dei partecipanti e sui curricula di coloro che non sono stati selezionati perché consentirebbe l'identificazione dei controinteressati e tutt'al più è possibile laddove vi siano i requisiti utilizzare l'accesso documentale di quegli articoli 22 seguenti delle legge 241 del 1990 dimostrando di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per cui è richiesto l'accesso. Dunque si ritiene legittimo il rifiuto del responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza. Questo per oggi è tutto, io lascerò a vostra disposizione le slide tramite le quali potrete accedere al parere bere stesso. Buon proseguimento di serata.